Sì, abbiamo avuto la proposta di ospitare nel periodo del festival la statua di Lucio Dalla, l'abbiamo accolta a braccia aperte, abbiamo immaginato che la location più importante potesse essere quella, ricordo che Lucio Dalla fu ospite e cantante al festival, voglio ricordare la famosa 4 marzo 1943, eravamo ancora in epoca di censura e quindi la dovete cantare parzialmente censurata, poi la versione integrale l'abbiamo potuta sentire qualche mese dopo. È una cosa importante, ritengo che si possa fare cultura anche in questo modo, ricordo che la statua all'Expo ricevette più di 3 milioni di selfie, quindi ci auguriamo che la nostra città, in numero ovviamente ridotto, però possa partecipare a rendere ancora più mediatica questa bella statua. Ringrazio lo scultore che ha voluto premiare la nostra città con una permanenza, seppure solo di un mese, di questa statua e abbiamo raccolto dalle sue parole la volontà di scolpire la statua di Domenico Modugno che sicuramente ha lanciato il festival negli anni 50, la quale dovrebbe essere poi invece donata alla nostra città e quindi dovremmo cercare poi una location adeguata ad ospitare Domenico Modugno. Lo spirito di quest'opera è quello di aver creato un'opera interattiva, infatti come vedete lui guarda negli occhi, abbraccia, sorride e offre, e questa è un'interattività. Mi sono creato questa, diciamo, poetica, una novità diciamo nel campo dell'arte contemporanea di un'opera interattiva.